39 borse con marchi contraffatti come Gucci, Louis Vuitton e altre griffe famose sono state sequestrate in via Betlemme dagli agenti del reparto Annona della direzione di Polizia Municipale nel corso di un'attività di contrasto all'abusivismo commerciale e alla contraffazione nel quadro del riordino del mercato storico di Piazza Carlo Alberto. Nel corso dell'operazione, alla vista degli agenti, i venditori abusivi stranieri sono tutti fuggiti.